Dopo la Basilicata, la Campania, la Sicilia e la Valle d'Aosta, oggi martedì 5 gennaio, nonostante il maltempo, è iniziata anche in Molise la tanto attesa stagione dei saldi. Ad aspetto di chi non ama attendere gli sconti per fare compere... Veramente da prima l'ho fatto, grazie, non aspetto i saldi. C'è chi, soprattutto le donne, approfittando dei saldi inizia la sua caccia all'affare o a quel capo tanto sognato ma inaccessibile al portafogli. Veramente ci troviamo qui in vacanza, siamo arrivati ieri. E quindi siete stati fortunati? Eh, infatti, adesso vedremo di approfittarne. Solo questo, era il regalo per Natale. Cosa ha acquistato? Una borsa, più che altro perché me l'avevano rubata. Ma vestiti, pantaloni, magliette, cose così. Pensa di acquistare altro? Sì, forse qualche altra cosa ancora sì. È il primo giorno, c'è ancora un po' di tempo. Ho acquistato, già dei piumini e dei vestiti per mia figlia. Quindi adesso abbiamo lasciato le buste in negozio e continuiamo. E proprio per i più piccoli, nella maggior parte dei negozi di abbigliamento si parte da uno sconto del 20%. La mattina, devo dire che nonostante le condizioni meteo, non ci possiamo lamentare. Già abbiamo avuto clienti che si sono riversati in negozio. Quali sono i capi più acquistati? Ma sicuramente maxipull quest'anno con leggings, poi attendono tanto i giubbini in saldo, poi insomma cardigan, un po' di tutto alla fin fine. Però diciamo che si punta tanto per la femminuccia sul maxipull e leggings e per il maschetto le tute oppure cardigan e jeans. Gettonato tra i più giovani invece è l'abbigliamento sportivo. Noi praticiamo una percentuale che va dal 20% al 50%, però la maggior parte dei prodotti stanno quasi tutto al 50%. È un po' prematuro anche parlarne di com'è l'andamento commerciale perché appunto sono iniziati oggi proprio i saldi. Qual è il capo d'abbigliamento che le capita più comunemente di vendere? Ma noi siamo specializzati nella vendita di calzature sportive da corsa, quindi noi praticamente sono 20 anni che vendiamo quello e naturalmente il prodotto principale sono proprio le calzature da corsa, da running, da passeggiata. Abbigliamento e calzature settori di maggiore interesse, ma cosa importante mettono in guardia le associazioni dei consumatori e che il compratore abbia la possibilità di verificare l'effettivo sconto praticato rispetto al prezzo di partenza. Noi tra le cose che facciamo come associazioni, come movimento consumatori e associazioni dei consumatori è quella di informare i cittadini e di sostenerli sul mercato con la tutela e anche informandoli. Distribuiremo stamattina a chi ci chiederà le nostre guide per l'acquisto dei giocattoli, oggi la vigilia è la Befana, la guida per l'acquisto dei cosmetici per le nostre donne, per difendersi dal falso, per difendersi dai danni che possono subire ed anche per esempio le guide sul mutuo informato, sulla donazione consapevole e altri istituti finanziari che noi redigiamo con l'assistenza del Consiglio Nazionale del Notariato. Secondo le stime dell'Ufficio Studi della Confo Commercio Nazionale, la spesa con i saldi per una famiglia media italiana sarà di 346 euro, il 3% in più rispetto al 2015.